All'intergruppo del Terzo Polo diciamo che noi siamo l'opposizione per rispetto e volontà del voto popolare e perché siamo realmente alternativi alla maggioranza di Vito De Filippo. E' questa la posizione del consigliere regionale Gianni Rosa nei confronti dell'intergruppo creato in consiglio regionale dai consiglieri Mollica, Navazio e Falotico. Siamo alternativi, ha continuato Rosa, nelle scelte, nei programmi e nella visione politica. L'esponente del PDL inoltre si è soffermato su quanto accaduto nella seduta del 14 giugno del consiglio regionale durante la quale fu eletto il consigliere Mollica con 5 voti dei consiglieri di maggioranza. Consigliere, afferma Rosa, invisibili in quanto nessuno ha dato una motivazione politica della scelta. Un esempio di sciatterie istituzionale lo ha definito Rosa, un piccolo inciucio creato da giochetti di corridoio. Gli unici sconfitti a parere del consigliere sono i cittadini lucani, i quali hanno diritto ad avere delle istituzioni autorevoli, un'assemblea regionale che legiferi e di ottenere decisioni pubbliche concrete.